Il mio modo di fare calcio di quattro difensori di ali offensive in mezzo a volte si può giocare con due cernocampisti e due attaccanti a volte con tre cernocampisti e un attaccante non mi vendo niente Lo Spezia è una squadra che ha comunque delle ambizioni verso Girardino in settimana giocatori importanti in difesa terzi lo stesso portiere di Gennaro poi terzi Boggiani che ha vinto il campionato con la squadra l'anno scorso giocano i valvi come Cercaroni Vignali e Maggiore a Cernocampo a Campora gli ex Giorgio e Marilungo quindi è una squadra molto lo stesso che la nostra squadra forte importante però ecco io come ho sempre detto a prescindere da chi si giochi chi si gioca contro bisogna affrontarlo con lo spirito giusto cercando di essere se stessi in campo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti